L'appartamento di Leto. Sai che numero è? Io entro senza dare nell'occhio. Trovo la bomba e la disegnesco. Poi libero tua solitura. E io guardo la tv? No, mi aiuti creando un diversissimo. Tati corre dietro e intanto io posso muovermi tranquillamente. Parigi 2013. Due uomini corrono contro il tempo per salvare la città dalla distruzione. Palli e 13. Venerdì alle 21.10. Rai 4.